La donna narcisista patologica è un aspetto molto importante perché solitamente si pensa che sia soltanto l'uomo ad essere narcisista e si ragiona secondo lo stereotipo per cui uomo narcisista, manipolatore, violento, donna vittima. Questa è una stereotipia molto comune ma in realtà molte donne hanno problematiche di narcisismo, hanno un'organizzazione di personalità di tipo narcisistico e a differenza delle donne vittima, l'uomo vittima ha più difficoltà ad ammettere questa cosa proprio per una questione culturale, per il fatto che ammettere di essere vittima di una donna in qualche modo sarebbe uno svilire se stesso qualcosa di cui vergognarsi. Fortunatamente per quanto riguarda l'universo femminile non è più così, ammettere di essere vittima di un uomo fortunatamente non è più così, non è qualcosa di cui vergognarsi, si può dire, anzi è giusto denunciarlo, per un uomo ancora esiste questo tabù e ci sono molte donne che hanno una problematica di narcisismo patologico. Cosa succede in queste relazioni? Le donne sono più brave degli uomini in molte cose, anche nel narcisismo. Nella fattispecie la donna con un'organizzazione narcisistica di personalità è più orientata al controllo, perché la dimensione del controllo gratifica maggiormente la donna narcisista rispetto all'uomo narcisista. Il controllo della donna narcisista è estremamente minuzioso, è puntuale, è totalizzante e per raggiungere un livello di controllo così elevato è necessario assolutamente che ci sia un percorso che piano piano permette di raggiungere quel livello. L'uomo narcisista è più portato al love bombing, all'apparire, al sedurre per impatto emotivo. La donna narcisista ha queste caratteristiche, ma è più orientata a una seduzione sottile, una seduzione graduale, in cui si trasforma nella donna prediletta, desiderata di quell'uomo e della sua famiglia, del suo gruppo di amici. Entra nella sua vita come elemento migliorativo, essenziale, meraviglioso, fantastico, di cui tutti sono contenti, quindi, quindi convincendo ulteriormente il partner della sua bontà, della sua importanza e delle sue caratteristiche, del suo valore. Questa forma di manipolazione è molto sottile e sudola perché? Perché la donna narcisista ha, come ogni organizzazione di personalità narcisistica, un ideale di sé molto elevato. Ma se ha a che fare con un uomo che cerca qualcosa di più semplice, improvvisamente sarà più semplice. Se ha a che fare con un uomo che cerca qualcosa di più ricercato, improvvisamente sarà più ricercata. Si adatta molto bene al partner e cerca di entrare nel suo giro di amicizie, nella sua vita personale, nella sua famiglia, bruciando un pochino le tappe. Inizia ad un certo punto a far notare che non gli hai presentato i suoi amici, che non c'è niente di male, la sua famiglia non sono mai stata a cena dai tuoi, ti fa presente che non c'è niente di male, ti fa notare che tu questa cosa non la fai. Perché fa questo? Perché prima entra in quell'ambiente, prima in grado anche di adattarsi camaleonticamente a quell'ambiente lì. E questo ha uno scopo, quello di creare questa immagine di sé, fantastica, dentro la testa del partner. Nel momento in cui questa idea si è creata e consolidata, ecco che cominciano i primi comportamenti di isolamento, cioè tentativi di isolare il partner dal suo contesto. E cioè? E ma quando sei con i tuoi amici non mi rispondi mai, non mi mandi neanche un messaggino, quando sei fuori a cena, quando sei in questo posto con la tua famiglia, in qualche modo cominci a far notare che la tua presenza altrove, cioè che il fatto che tu ti stia dedicando a qualcun altro, ecco, sottrae l'attenzione a lei. E cominciano queste sottili manipolazioni per senso di colpa. Lei ti fa sentire un pochino in colpa perché dice ma io ti voglio bene, quindi magari rispondimi al messaggino. E comincia ad entrare in questo tipo di dinamica che lentamente si fa sempre più strada. Fino a quando, una volta che tu hai come abitudine quella di rispondere al messaggino, quella di essere disponibile per lei, ti chiede, ecco, di non andare alla partita di calcetto, a cena con tuo fratello, perché chiede attenzione per se stessa. Quindi il primo passo, il primo periodo del corteggiamento è creare questa immagine fantastica di me, quindi il love bombing non ha questo impatto emotivo improvviso, ma è qualcosa di più ampio, di più sottile, poi ad un certo punto inizia lentamente a ritirare le redini per isolare il partner e tirarlo verso di sé, mentre l'uomo qui, no, è più affettato perché improvvisamente strappa, non si fa vedere per un po' di tempo, fa ghosting, ecco, cose di questo tipo. Ha delle strategie di maggiore impatto emotivo. Quindi nel momento in cui effettivamente tu inizi a ridare attenzione a lei, a dare più attenzione a lei rispetto alla tua famiglia, ai tuoi amici, a sottrarti alcuni eventi, lei ha già creato una situazione per cui nel momento in cui qualcuno dovesse chiedere come mai non ci sei, lei ha già creato dei rapporti preferenziali per cui in realtà non ci sei perché sei tu che non vuoi esserci, non è lei che ti dice di non andare, anzi se qualcuno gli chiede lei dice ma io glielo dico di andare, io gli dico di farsi i suoi spazi, però lui è così, è fatto in questo modo e le persone cominciano a farsi un'idea distorta di te. La donna narcisista nella dinamica di controllo è di cui ho appena descritto l'inizio, un periodo iniziale di qualche mese al massimo, ecco non si ferma mai, cioè la sua tendenza al controllo è spinta a vedere fin dove può controllarti, fin dove può dominare su di te, perché ricordiamoci l'organizzazione di personalità narcisistica ha un rapporto nella relazione di tipo dominanza sottomissione, quindi mentre l'uomo tende a porsi immediatamente sopra, prima per impatto emotivo, sono il partner perfetto, poi con tutte le dinamiche manipolatorie, la donna si pone alla pari o addirittura di sotto e poi improvvisamente diventa la persona che ti controlla completamente, è una dinamica più subdola. Nel momento in cui ha questo controllo su di te, vede fin dove può spingersi e questo significa vedere se può farti cambiare la macchina, vedere se durante una litigata può farti cambiare completamente idea, vedere se può farti cambiare lavoro, farti cambiare città, arriva a esigere dal suo partner dei comportamenti che sono di ubbidienza totale e se questo non succede la sua reazione diventa sempre più stizzosa, perché in qualche modo ti ho dato tutta questa energia e attenzione per imparare a conoscerti, a dominarti, a destrarti e poi tu quando ti do il comando non ubbidisci e questo mi fa arrabbiare terribilmente. Ecco, questo tipo di reazione è molto evidente della nonna narcisista che poi ovviamente scompare, anche lei si ripresenta come se non fosse successo niente, come se non ti avesse detto nulla. Ecco, ho avuto a che fare con persone che sono state letteralmente rovinate da questo, sono arrivate a cambiare lavoro, a vendere un'attività, ad andare a lavorare dipendente, a cambiare città, a ricominciare da capo in un'altra situazione e tutto questo perché sospinti da una partner a cui loro obbedivano completamente. Una partner che prima si era conquistata tutte le persone intorno a loro, poi piano piano aveva iniziato a fargli vedere gli aspetti negativi degli amici, gli aspetti negativi dei familiari, gli aspetti negativi delle varie persone. Aveva iniziato a cambiare il sentire emotivo del partner verso i suoi legami, isolandolo sempre di più, avvicinandolo sempre di più a sé e facendo in modo che gli disse sempre più attenzione, poi ad un certo punto inizia ad intervenire sulle sue scelte di vita, le scelte economiche, le scelte abitative, le scelte professionali, vedendo fin dove si può spingere. Se in questo ambito non mi posso spingere, mi spingo da quest'altra parte. Arrivata in fondo, inizierò a vedere se posso allargarmi ad altri ambiti della vita, determinando le scelte del partner in maniera sempre più totalizzante. A differenza delle donne vittime di queste situazioni, gli uomini non hanno facilità a chiedere aiuto, hanno una consapevolezza minore di queste dinamiche, anche perché se ne parla molto meno, questo va detto, e hanno una propensione minore a farsi aiutare. Solitamente quando mi chiamano gli uomini mi dicono ma io non ho bisogno di fare un percorso di psicoterapia o una serie di consulenze, è giusto una curiosità, una domanda. Ecco, e non riescono a rendersi conto che in realtà non saranno capaci di modificare questa relazione senza un aiuto concreto. Fammi sapere cosa ne pensi e cosa vorresti che approfondissi.